Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, bentornati alla nostra ora solare, una puntata piena di tutto oggi. Siamo proprio pieni, pieni, pieni di storie, di cose belle, solari, solarissime da raccontarvi. Partiamo da una grande famiglia, da una grande famiglia imprenditoriale. Se io dico il nome Ambrosoli non può che venirci in mente le bontà, la dolcezza dal miele e tutto quello che intorno al miele gravita. Quindi sarebbe troppo facile dirvi che questa storia sia carica di dolcezza. È una storia che va ben oltre la dolcezza, diventa voler bene al mondo, diventa far cadere positivamente i meriti di uno zio su una splendida nipote. Giovanna Ambrosoli, grazie di essere con noi. Che fa cose straordinarie, Giovanna, bella rinagra, grazie. Fa cose straordinarie, ma giustamente, e questo io lo dico perché a volte è così quando si va a parlare in televisione, non è esattamente come dire, e invece siamo qua a chiacchierare con tutta, lo ripeto ancora una volta, la dolcezza del caso. Chiamatemi Giuseppe, padre Ambrosoli, medico e missionario, edizioni San Paolo, Elisabetta Soglio con Giovanna Ambrosoli. Se volete leggere la storia di un uomo, posso girare il libro dove volete, ma l'importante è farvi conoscere questa storia. Giovanna, posso chiamare Giovanna solo così? Certo, anzi grazie. Stiamo parlando di una grande imprenditrice dentro l'azienda di famiglia fino a che, operativamente intendo dire, fino a che anno? Fino ai primi anni 2000. Primi anni del 2000. E a 40 anni, cioè ieri, una scelta di quelle che lasciano un po' sconvolti, no? Perché una donna, manager, mamma, moglie, che cosa decide di fare? Beh, diciamo che ero in un momento della mia vita in cui un problema di salute mi aveva obbligato a interrompere l'attività lavorativa, quindi era un momento di pausa in cui stavo un po' ripensando a quello che volevo fare. e avevo questo progetto in famiglia, questa storia meravigliosa che ci aveva sempre accompagnato. Alla quale arriviamo tra un attimo. E quindi ho deciso di buttarmi e di, come dire, realizzare professionalmente quella profensione che comunque io avevo sempre avuto, quell'interesse verso il settore sociale. Allora, il settore sociale, se no non avrei presentato questo, non avrei fatto vedere questo libro, fa sì che, eccola qua, guardatela, fiera in mezzo ai suoi dottori, fa sì che la storia di Giuseppe Ambrosoli rappresenti per Giovanni una naturale prosecuzione di vita. Però a questo punto fermiamoci su questa storia. Chi era Giuseppe Ambrosoli? Padre Giuseppe, così come lo chiamiamo tutti, l'abbiamo sempre chiamato tutti in famiglia, era mio zio, era il fratello di mio padre. Mio padre è il più piccolo di otto fratelli. E padre Giuseppe, che aveva dieci anni più di lui, era comunque il fratello più vicino a lui. E' sempre stato un ragazzo, fin da ragazzo è stato molto una persona speciale, che ha mostrato già dall'età dell'adolescenza una vocazione particolare verso gli altri e la voglia di fare qualcosa, di spendere la propria vita per gli altri. Per cui studia medicina, si interrompe, poi riprende, interrompe per l'arrivo della guerra, riprende e si specializza in malattie tropicali, con l'idea di voler proprio fare il missionario e andare a aiutare gli ultimi dell'Africa. E' vero che bussò alla porta e disse, ma un medico può fare il prete e il prete può continuare a fare il medico? Sì. Perché questa era la sua preoccupazione principale, cioè portare se stesso con la propria fede e il proprio credo, però se stesso medico. Sì, lui voleva unire la professione, la professionalità medica, alla fede, al suo credo e farne una missione di vita. E quindi un giorno si presenta alla missione dei combognani a Rebbio e chiede al superiore provinciale se un medico poteva essere anche combognano e viceversa, perché era una situazione che non si era mai verificata prima. Questo permesso gli viene accordato e quindi da qui inizia poi la sua scelta. La sua scelta, e qui lo vediamo, è una scelta che, vista così, ne parlavamo prima con Giovanna, fa sì che questa sia una fotografia e ci dica di un istante, di un attimo. Quella fotografia significava stare a contatto con malattie che non si conoscevano, arrivare in Uganda in una terra di per sé carica e colma di pericoli, seguiremo anche il problema della guerra, di una guerra. L'Africa non si è fatta mancare nulla. Eppure padre Giuseppe è capace di convogliare lì tutto il possibile, forma personale. Tornava in Italia, ma tornava per imparare di più e poi tornare indietro e formare personale. Che cosa è riuscito a costruire? Padre Giuseppe è arrivato nel 1956 in un'area poverissima e rurale, proprio remota del nord Uganda, dove trova questo piccolo dispensario, gestito da un altro padre combognano che però non era medico e aveva bisogno di un medico. Inizia ad avviare la sua attività e proprio dal nulla, da questo piccolo dispensario, in 32 anni crea giorno dopo giorno un grande ospedale. E non solo, proprio per formare le donne, per aiutare a ridurre il tasso di mortalità materna che era altissimo a quell'epoca, oggi molto meno ma lo è ancora, decide di avviare una scuola di formazione specialistica per le donne, perché le donne potessero diventare ostetrica, avere una professione, salvare vite ed essere anche autonome e indipendenti. E qui siamo alla fine degli anni 50 e questo è stato anche la sua grande visione. È stato una visione, è stato un grande visionario, visionario poi operativo. Nel senso che lui l'ha visto ma l'ha fatto? Sì, molto concreto. Concreto e diciamo si occupava un po' di tutto. Era un eccellente chirurgo che non ha mai smesso però di voler imparare, perché lì doveva occuparsi di qualsiasi tipologia di intervento, ma nello stesso tempo è stato anche un imprenditore perché ha creato veramente un'impresa di solidarietà, di bene, dal nulla. Ambrosoli, no, lo dico, guardi, vado piatta sul cognome, me lo permetta, sapendo quello che stiamo dicendo, no? Cioè, un'idea etica e intelligente di impresa quale che essa sia. In questo caso un'impresa, guardate qui, tutto questo non esisteva, tutto questo non c'era. Lo realizza quest'uomo straordinario. Allora, abbiamo ancora un minuto, sì. Lui muore ed è sepolto nella sua Africa. Sì, lui muore durante l'evacuazione forzata in un momento molto drammatico, nel 1987, muore il 27 marzo, e lascia l'ospedale, vedendo le fiamme alle sue spalle, quindi lascia l'ospedale convinto che il lavoro di tutta la sua vita fosse andato distrutto. E non è così. Non è così, perché l'ospedale, lui si prodiga per salvare la scuola di ostetricia, per permettere di continuare, e a causa di queste sofferenze fisiche e psicologiche muore poche settimane dopo e chiede ai suoi superiori di dire alla famiglia che voleva rimanere in Uganda tra la sua gente. Infatti il padre Giuseppe è sepolto a Calongo. L'ospedale, dopo qualche anno di interruzione, ha riaperto la sua attività e ha continuato la sua storia ininterrottamente, sempre in una guerra civile veramente drammatica per altri vent'anni e che siamo arrivati all'oggi. Allora, è già così, io lo vedo dal silenzio e dall'attenzione qui in studio, già così la storia sarebbe l'ora solare, potrebbe bastare. E no, perché c'è Giovanna che prende, lascia tutto e parte. Dopo la pubblicità. Lasciate la finestra a stare in casa. Arriviamo subito. Allora, eccoci qui, siamo ritornati in studio con Giovanna Ambrosoli e abbiamo raccontato la storia e continuiamo a raccontare la storia di padre Giuseppe Ambrosoli. Questo zio com'era? Lei come se lo ricorda? Ma io me lo ricordo molto bene, molto nitidamente. Ho anche il ricordo dell'ultima volta che l'ho visto. Ero all'università, stavo studiando per un esame, lui era in Italia, era a Milano di passaggio, ho fatto capolino nella mia stanza, chiedendomi cosa stesse studiando. Abbiamo fatto una mezz'ora di chiacchiera, sempre con questo sguardo luminoso, con questa serenità, che poi negli anni mi sono domandata, caspita, ho dato un peso diverso a questa serenità, vedendo quello che ci stava dietro. perché per valutare, guardate questa fotografia, voi pensate a quanto bene abbia prodotto quest'uomo, non solo con la propria presenza, ma formando personale medico, quindi dando valore a gente che ha imparato a fare medicina grazie a lui. Insomma, è l'espansione del bene, è il bene proprio che si allarga. Sì, è il motto combognano, che lui ha sempre voluto seguire, salvare l'Africa con gli africani, che significa lavorare insieme a loro e permettere a loro di andare avanti. Ma, ma, Giovanna, che fa ad un certo punto? Perché siamo partiti da lì, no? Ho deciso di seguire le orme di mio zio e quindi? Beh, l'occasione è stata, diciamo, il cinquantesimo anniversario della nascita dell'ospedale, in cui abbiamo deciso io e i miei cugini di andare, era finita la guerra, quindi era tornata la pace, di andare finalmente a visitare l'ospedale. Per me era la prima volta andare in questo posto che avevo sempre visto nelle foto, nelle strade, sentito raccontare, e quando sono arrivata col piccolo aereo, ho visto questa montagna di Calungo, la montagna del vento, che contraddistingue proprio il paesaggio, mi è sembrato quasi di arrivare in un posto dove ero già stata. Perché mi aveva comunque questa storia sempre accompagnato. Ora, vengo a qualcosa di molto pratico, anche perché siamo tutti liberi di sostenere, di aiutare, di guardare a queste storie, a queste vicende. Voi avete messo in piedi, anzi Giovanna, messo in piedi una fondazione. In realtà la fondazione è nata nel 98, ad opera della famiglia dei Combognani, in particolare di uno zio, fratello di padre Giuseppe e mio zio Paolo, che diciamo si è stato promotore di questa... Sì, però lei la tiene in piedi, insomma, in maniera molto attiva. Poi, dopo dieci anni, sono subentrata io, decidendo di occuparmi a tempo pieno di questa realtà, che ha l'impegno e la responsabilità di garantire la continuità di quest'opera meravigliosa. Di quello che è stato realizzato. Ma quindi, Giovanna, lei fa la spola tra Italia e Uganda? Io vado due volte all'anno, la prossima volta andrò a luglio, e siamo presenti nel consiglio di amministrazione dell'ospedale, quindi partecipiamo attivamente alla vita dell'ospedale, e poi è l'occasione per andare con chi vuole conoscere l'ospedale, per verificare i progetti, per verificare che i fondi che noi raccogliamo, grazie al sostegno di tante persone, vadano impiegati e utilizzati nel miglior modo possibile. E cosa devo digitare? Fondazione? www.fondazioneambrosoli.it Più facile di così. Senta, ma a casa cosa hanno detto? Quando lei ha detto, sai che cosa c'è? Io lascio tutto e vado a continuare quello che padre Giuseppe Zio ha messo in piedi. Beh, diciamo che in realtà è stato un passaggio più graduale, anche un po' silenzioso da parte mia all'inizio. Ma lei è proprio di natura, è un gatto. Lei non si fa sentire. L'abbiamo fermata proprio adesso per chiacchierare un po'. La mia famiglia ha incominciato, i miei figli, mio marito a partecipare, anche se conoscevano già la storia, piano piano. Sono venuti, hanno visto e quindi hanno conosciuto e sanno che cosa significa. C'è tanta gente che dovrebbe essere lì. Sarebbe un buon viaggio per tanti. Quando, è l'ultima battuta che le chiedo, quando ordinarono a suo zio di evacuare l'ospedale, e lui sarebbe morto poco dopo, lui come rispose? Lui rispose quella sua frase, quello che Dio vuole non è mai troppo. L'aveva chiamato il suo beloved failure, cioè l'amato fallimento, che dà l'idea di che significato desse lui proprio alla sua scelta di vita, quindi a questa accettazione di tutto quello che poi era la realtà che gli era accaduta. C'è un modo di dire, in America c'è gente che per salire tra gli angeli non si cambia neanche d'abito. Riteniamo che padre Giuseppe Ambrosoli proprio non abbia cambiato neanche il vestito, non sia stato necessario. È sepolto nella sua Africa con amore e da quel suo luogo di riposo chiama persone straordinarie come sua nipote Giovanna a essere attive. E io le ringrazio tanto, Giovanna. Grazie Paola. Posso aggiungere una cosa? Certo, certo che sì. Invito a chi ci ascolta a visitare il nostro sito, a guardare quello che facciamo, perché l'ospedale comunque ha bisogno di fondi, ha bisogno di medici, ha bisogno di aiuti e quindi... Di medici? Sì, di professioni. I giovani studenti in medicina, magari. Anche, certo, anche di giovani. Giovanna Ambrosoli, grazie. Grazie con la G di Giovanna. Venga qua e si lascia della tua bacione. Grazie Paola. Grazie di cuore, davvero. Che storia.